Abbiamo scelto Rosciano per costruire la nostra casa perché innanzitutto è il mio paese di origine ma è un posto pieno di tradizioni e immerso totalmente nella natura e qui potevamo veramente realizzare il nostro sogno. La nostra casa rispecchia in tutta la nostra personalità, abbiamo oggetti che abbiamo riportato dai nostri viaggi in giro per il mondo e anche i nostri bambini hanno assorbito l'influenza del nostro amore per la natura e per l'ecosistema e loro lo vivono appieno. L'edificio è completamente ignifico e antisismico e i 6 kilowatt di pannelli solari ci garantiscono tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. Dato che non ci siamo fatti mancare niente abbiamo dovuto a un certo punto fare i conti con il budget e qui abbiamo incontrato delle persone con una forte lungimidanza i cui valori rispecchiavano i nostri e ci siamo fidati l'uno dell'altro e abbiamo fatto sì che il nostro progetto si realizzasse. L'anima della casa è 100% legno e xlam dolomiti. Le pareti sono dotate di WMC, ventilazione e meccanica controllata per il riciclo dell'aria. Tutte le vernici utilizzate sono completamente ecologiche. Le finestre sono realizzate in accoglia naturale che è completamente atossica con vetri termici. Noi siamo felicissimi di ospitare i nostri ospiti, i nostri amici che vengono da tutto il mondo e questa è veramente una casa fatta e realizzata tutta da vivere e condividere.